A riscosso un buon successo la manifestazione per l'aeroporto agrigentino fortemente voluta dal presidente della provincia Eugenio Dorsi. Ad Agrigento, dal viale della Vittoria fino a piazza Vittoria Emanuele, almeno 5.000 persone hanno marciato per sostenere il progetto dell'infrastruttura aeroportuale che dovrebbe nascere a Licata. C'erano quasi tutti alla manifestazione, i parlamentari agrigentini, i sindaci della provincia, le forze politiche sindacali, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, anche il vescovo Montenegro, gli studenti e la società civile. Al comizio conclusivo, davanti alla sede della provincia, sono intervenuti i rappresentanti sindacali, il sindaco di Agrigento Marco Zambuto, il rappresentante dei sindaci agrigentini Calogero Fumilia, l'assessore regionale Roberto Di Mauro e ha naturalmente concluso, soddisfatto, il presidente Dorsi. Poi Dorsi è salita in prefettura per consegnare ufficialmente al prefetto Umberto Costiglione il resoconto del successo della manifestazione, con la formale richiesta che viene dalla piazza di sostenere con forza la realizzazione dell'aeroporto di Agrigento. Viva Agrigento, viva l'Agrigentino, viva l'Agrigento!